buongiorno amici del canale youtube appassionato di campane questo è il simulatore di campagna simulato di campana è creato da nix e in questo simulatore ci abbiamo 10 campana carillon infatti c'è scritto 10 campana dalle grezza 10 campane carillon e queste campagne sono state simula hanno simulato le campane la fornita marina di agnone che è la campana il giubileo del 2000 ecco perso e c'è scritto per suonare è necessario utilizzare la tastiera del proprio pc le campane sono comandate dalla fila dei pulsanti che dalla lettera q arriva alla p passando da sinistra verso destra si si suonano le campane a mano a mano più piccole vi faccio sentire un po delle suonate di ben abbiamo le giurde grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora Lourdes, Fatima ho sbagliato, quella di prima è la prima di Lourdes e quella adesso la prima di Fatima. Grazie a tutti. Eccola qua. Adesso una melodia, quella melodia lì che poi ve lo dico sulle iscrizioni. Vado. Ecco. Christus Vigi, adesso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.